Dobbiamo fare il possibile per proteggere insieme la salute e l'economia. Di qui la necessità di introdurre misure più restrittive rispetto a quelle sin qui applicate. Le nuove misure entreranno in vigore questa sera, a mezzanotte, e rimarranno in vigore sino al 24 novembre. Ve le riassumo. Bar, gelaterie, pasticcerie, ristoranti chiuderanno alle ore 18, tutti i giorni compresi i festivi. Dopo le 18 però potranno continuare a operare per le consegne a domicilio e per l'asporto. Ai tavoli dei ristoranti potranno sedere al massimo quattro persone, salvo che si tratti di nuclei familiari più numerosi. E' vietato consumare cibo, bevande, nelle piazze, nelle strade pubbliche dopo le ore 18. Chiudono palestre, piscine, centri benessere e centri termali. Chiudono anche sale gioco, sale bingo, sale da ballo, parchi di divertimento e ovviamente continuano a rimanere chiuse anche le discoteche. Chiudono anche teatri, cinema, sale da concerto. E' una decisione questa che è risultata particolarmente difficile tra le altre. Il mondo della cultura, infatti, è in forte sofferenza ormai da mesi. Restano aperti invece i musei. Non sono consentiti più festeggiamenti conseguenti connessi a cerimonie civili e religiose. Ricorderete che per adesso c'era il limite di 30 persone. Convegni, congressi e altri eventi potranno svolgersi solo con modalità a distanza. Tutte le fiere, di qualsiasi tipo, anche internazionali, sono sospese. Sono sospese anche tutte le competizioni dello sport, tranne quelle professionistiche a livello nazionale. E per quanto riguarda l'attività sportiva di base, continuerà solo quella degli sport non da contatto e comunque al di fuori di palestre e piscine. Per le scuole secondarie di secondo grado, quindi parliamo di licei, istituti tecnici e professionali, incrementiamo la didattica a distanza, almeno nella misura del 75%. Incentiviamo ulteriormente il ricorso allo smart working e alla pubblica amministrazione e lo raccomandiamo fortemente, per quanto possibile, anche nelle aziende private. E in particolare, incrementando lo smart working e anche incentivando il ricorso per le scuole superiori della didattica a distanza, confidiamo di alleggerire l'utilizzo, l'afflusso nei mezzi di trasporto pubblici. Non abbiamo introdotto un coprifuoco, è una parola che non amiamo, ma rivolgiamo una forte raccomandazione a tutti. Bisogna muoversi solo per motivi di lavoro, di salute, di studio, di necessità. E raccomandiamo anche di evitare di ricevere a casa persone che non facciano parte del nucleo familiare.